in area prova a girarsi qui il giocatore della torre amarancia all'indietro per la conclusione secca con il destro da parte di Tomassetti è larga di poco il numero 10 Soldano Soldano poi attaccato deve dunque girarsi Soldano tra le linee allora Ranucci prova con il destro ottima conclusione la palla però è larga Delvigna ci sarà la battuta per i ragazzi dell'indomita la battuta verso il centro dell'area e c'è la grandissima parata di Delvigna sul colpo di testa di Giordano Ranucci Rosciata di Fiorini scarica su Di Matteo Di Matteo carica il destro pesca l'angolino del primo palo sorpreso Ferretti e vantaggio torre amarancia dunque si riprenderà con il possesso di Savi che ha ricevuto da Delvigna il solito Fiorini con la sventagliata verso la rite rigore precisa per Di Matteo che stoppa e poi va con il sinistro la palla va sull'esterno della rete Di Matteo tra le linee il servizio ottimo per Tomassetti all'indietro per Venale Venale carica il sinistro non le si impenna nonostante fosse centrale ha accennato la parata Ferretti Savi rischia sull'attacco di Imbegwe che poi scarica un destro potentissimo risponde Delvigna e salva il torre amarancia ricorsa di Matteo che va direttamente verso la porta si impegna Ferretti e la alza sopra la traversa Fiorini tra le linee buona per Savi che va con il sinistro Murato ma c'è ancora il numero 5 Fiorini va morbido al centro la gira in porta Tomassetti e c'è un salvataggio decisivo sulla linea e dunque strano viene intercettato il tocco di Di Matteo dal limite con il destro e questa volta non basta la parata di Ferretti Fiorini allarga sulla destra riesce a mettere poi questo pallone buono in area c'è il dribbling al portiere e il torre amarancia chiude la partita fondo termina così il match tra Indombita Pomezia e torre amarancia la vittoria per 3-0 del torre amarancia grazie a tutti grazie a tutti